Benvenuti su Medicina Informazione Web TV. Gli occhi sono lo specchio dell'anima, dice un detto, ma sono anche il primo contatto con chi abbiamo di fronte. Uno sguardo infatti racconta molto di noi, del nostro stato d'animo, ci rappresenta e comunica chi siamo. Con il passare degli anni però il nostro sguardo può apparire spento, con i segni del tempo che lo caratterizzano e anche in alcuni casi persone più giovani possono avere delle problematiche perioculari, che in alcuni casi rappresentano un disagio. In questi casi oggi si può intervenire in modo mini-invasivo e con tecniche innovative. Ce le fa conoscere il professor Gentileschi che è in nostra compagnia ed è collegato dal Policlinico Giamelli di Roma. Professore, buongiorno. La regione perioculare è particolarmente delicata. Conosciamo quali sono le sue caratteristiche per iniziare. La regione perioculare, quindi le palpebre, palpebre inferiore, superiore, il sopracciglio, sono una zona naturalmente esposta a tutta una serie di stimoli come per esempio il sole, il caldo ed il freddo e la mimica facciale, quindi l'espressività, tutti i movimenti e la contrazione. Questo tipo di caratteristica associata al fatto che l'epidermide ed il derma della regione palpebrale sono più delicate delle altre zone del corpo porta molto spesso a dei segni di invecchiamento che si esprimono di più a livello della regione palpebrale rispetto alle altre zone del viso. Quindi nella persona che avanza un pochino con gli anni possiamo trovarci in presenza di guance o di fronte che ancora sono in delle situazioni buone dal punto di vista dell'aging, mentre le palpebre sono avanti con gli anni. Proprio per questa ragione è una delle zone che viene più frequentemente corretta. altre volte queste caratteristiche possono verificarsi anche in persone giovani per ragioni di predisposizione soggettiva. Quali sono le condizioni in cui può essere richiesto un intervento di blefaroplastica? L'intervento classico comporta la rimozione degli eccessi di pelle, di muscolo e di grasso a carico della palpebra superiore ed inferiore ed è sicuramente un intervento che in una buona quantità di pazienti dà dei buoni risultati. Anche quando ci sia una riduzione eccessiva del grasso per ragioni di invecchiamento e quindi l'occhio tende a presentarsi in maniera incavata, l'intervento di blefaroplastica può aggiungere del tessuto adiposo con l'innesto di grasso e quindi correggere questa caratteristica. Sono forme molto frequenti, pensiamo che dalle statistiche della Società Internazionale di Chirurgia Estetica, nella popolazione generale la chirurgia estetica delle palpebre è il terzo intervento più eseguito, mentre se restringiamo il campo di osservazione alla popolazione di sesso maschile è il primo intervento più eseguito. Questo per dare un'idea di quanto queste caratteristiche siano molto frequenti e le correzioni ovviamente richieste siano altrettanto frequenti. Arriviamo alle tecniche utilizzate oggi e al tipo di correzioni con cui intervenite. All'intervento classico che riduce l'eccesso di pelle, di muscolo e comporta anche la riduzione o l'aumento del tessuto adiposo a seconda delle caratteristiche, nella palpebra inferiore è più frequente redistribuire il grasso o ridurlo, nella palpebra superiore può essere opportuno ridurlo o a volte aumentarlo. Si associano oggigiorno tutta una serie di altre piccole procedure che sono frequentemente eseguite come la cantoplastica o il lifting del sopracciglio e che comportano un ulteriore vantaggio estetico e a volte anche un vantaggio funzionale. Infatti le palpebre possono essere sede di problematiche di criticità funzionali come la discesa verso il basso sia della palpebra superiore che inferiore che possono essere corrette in corso di blefaroplastica. La cantoplastica invece è la parte della chirurgia che si rivolge all'angolo esterno dell'occhio. Questa è una struttura molto importante perché da un punto di vista funzionale può consentire di alzare il livello della palpebra inferiore per ripristinarne la corretta posizione. Da un punto di vista estetico invece può dare una forma che deve essere una correzione quasi impercettibile, leggera, un pochino più allungata a quello che invece può essere un occhio leggermente cadente causando un risultato estetico molto piacevole con quello che quando è un pochettino estremizzato va sotto il nome di cat eye, cioè l'occhio da gatto, ma che deve essere qualcosa di assimilabile a un eyeliner molto ben messo, con quindi una rima dell'angolo esterno un pochettino allungata che conferisce allo sguardo in particolare femminile un aspetto molto glamour. A volte possono essere abbinate altre correzioni, quali in particolare? Ovviamente la regione oculopalpebrale è inserita nel viso, quindi quando si esegua una blefaroplastica per correggere queste caratteristiche dell'invecchiamento si può valutare se le regioni circostanti hanno necessità di alcune correzioni, anch'esse strumentali ad avere un risultato ancora più bello. Una di queste è per esempio l'analisi della regione zigomatica che può con i segni del passare del tempo manifestare uno svuotamento dei compartimenti adiposi e quindi uno zigomo che nel bambino è paffutello ed è con la giusta rappresentazione del grasso può diventare ossuto e scavato. In seguito alla blefaroplastica si può ripristinare questo volume trapiantando del tessuto adiposo da un'altra zona del corpo alla regione delle guance e dello zigomo e quindi fare quello che si chiama lipofilling o liporistrutturazione migliorando ulteriormente l'impatto visivo della blefaroplastica. Un'altra regione da attenzionare in maniera importante quando si esegua una chirurgia estetica dello sguardo è quella della fronte e del sopracciglio che ovviamente può necessitare di essere riportato in una posizione più alta per conferire allo sguardo un aspetto più gradevole. Parliamo di tempi di recupero, di quali tempi parliamo? L'intervento di blefaroplastica essendo eseguito sul viso è opportuno pianificarlo in un periodo dell'anno in cui non c'è una particolare esposizione alla luce solare quindi si evitano i mesi estivi proprio perché la pelle appena operata con i lividi esposta al sole può macchiarsi e poi queste macchie sono molto lenti a riassorbirsi. È un intervento che si può eseguire in regime di desargeri in anestesia locale con una modesta sedazione, una dimissione in giornata o al massimo il giorno successivo in casi particolari. I punti di sutura vengono rimossi dopo una settimana e per un'ulteriore decina di giorni sono presenti delle echimosi cioè dei lividi ed un gonfiore che si vanno gradualmente riassorbendo. Quanto è importante rispettare i volumi e i lineamenti originali per risultati sempre più naturali che mantengano le caratteristiche dello sguardo e quanto in questo senso eseguire un intervento di chirurgia estetica in centri di alta specializzazione è essenziale? Le caratteristiche del volto e dello sguardo della singola persona vanno assolutamente rispettate e si correggono i difetti che vengono a subentrare. Quindi ogni intervento di chirurgia estetica è una sorta di abito su misura che va confezionato sul singolo paziente e sul singolo difetto. Proprio per avere la competenza tecnica di rispettare le caratteristiche del viso ed eventualmente correggere le problematiche funzionali che accompagnano quelle estetiche bisogna rivolgersi in mani esperte ed in centri di riferimento. Noi ringraziamo il professor Gentileschi per aver condiviso con noi le novità nel campo della blefaroplastica e ringrazio anche tutti voi per essere rimasti in nostra compagnia. Arrivederci qui su Medicina e Informazione Web TV.